Il record è tratto Every Day is the First 5,000 Days dell'artista digitale Bipol, Alan Agrife Michael Winkleman con la sua vendita a 69,346.200 milioni di dollari da Christie's e destinata a diventare una pietra miliare che pone l'attenzione definitivamente sulla cripto-art. Ma la domanda che tutti si sono posti è chi ha comprato l'opera di Bipol? Un nome è saltato fuori, Meta Covan. Scopriamo insieme chi è e perché ha comprato l'opera. Non si parla d'altro. Il mondo dell'arte tradizionale è stato scosso da un nuovo fenomeno, quello della cripto-arte, che di fatto sta rivoluzionando il mercato. L'opera del cripto-artist Bipol è stata la prima ad essere proposta sul mercato attraverso un partner che più tradizionale non si può, ossia la casa d'aste Cristis, che intuendone forse la portata, e ha ragione, ha dato il via a qualcosa che non si era mai visto prima. Poco dopo la giudicazione dell'opera, lo scorso 11 marzo, per quasi 70 milioni di dollari, tutti si sono chiesti Ma chi è il collezionista che ha acquistato quest'opera? Prima di addentrarci nella risposta, è bene ricordare le caratteristiche di un'opera di cripto-art, ossia degli NFT, acronimo di Not Fungible Tokens, file digitali collezionabili basati sulla tecnologia blockchain, database distribuiti, e diventando in dato di fatto un vero e proprio smart contract digitale. Gli NFT diventano per la cripto-art la soluzione ideale per garantire il possesso dell'opera, l'unicità, la verificabilità e l'esatta quantificazione delle copie immesse nel mercato, dati importantissimi per il collezionismo nascente. In pratica la fisicità dell'opera come la proprietà diventa digitale, costantemente tracciata, mentre in alcuni casi gli artisti continueranno ad avere una percentuale anche sulle vendite successive alla prima, grazie al tracciamento degli NFT da parte delle stesse piattaforme. Oggi sono tante le piattaforme come SuperRare, NiftyGift, OpenSea e Marketplace che permettono la vendita di queste opere digitali, sia di primo che di secondo mercato, tracciando le vendite e mettendo in chiaro ogni transazione che avviene mediamente in criptovaluta, chiamata Ethereum. Ricordo però che l'asta di crisis è avvenuta con i metodi tradizionali della casa d'aste. Infatti, pur vendendo un'opera digitale NFT, ha seguito la procedura canonica accettando rilanci tramite la loro piattaforma e utilizzando le maggiori monete fiat come dollari, sterline e euro, e non criptomonete. Crisis ha dichiarato che dopo l'aggiudicazione saldo sarà lo stesso artista Bipol a rilasciare l'opera al collezionista tramite la piattaforma Marketplace, cambiando completamente in dato di fatto la filosofia e canonica dinamica di vendita e di scambio degli NFT. Il giorno dopo l'aggiudicazione un nome salta fuori. È quello del fortunato e milionario collezionista. Si tratta di MetaKovan, pseudonimo dell'imprenditore, programmatore e angel investor nella tecnologia blockchain, sin dal 2013, patron del fondo MetaPourse, il più grande fondo NFT al mondo. È lo stesso collezionista a rilasciare una dichiarazione spiegando l'importanza dell'acquisizione. Quando si penserà a un NFT di alto valore sarà piuttosto difficile pensare di battere quest'opera perché rappresenta 13 anni di lavoro quotidiano. Le tecniche sono replicabili, è l'abilità superabile, ma l'unica cosa che non puoi hackerare digitalmente è il tempo. Questo è il gioiello della corona, l'opera d'arte più preziosa per questa generazione. Vale un miliardo di dollari. Sono numerosi i suoi loro interessi nel campo degli NFT e della gestione di collezioni di crypto arti di cui siamo tutti curiosi di capire la reale motivazione di acquisto, promozione e valorizzazione. Tuttavia, attualmente l'opera non compare nella collezione e disponibilità dell'artista né del collezionista ed ancora non c'è dato sapere come sarà normato il rilascio, compresa l'emissione della stessa all'interno della piattaforma. Quindi, se come abbiamo visto prima, una delle peculiarità degli NFT è la trasparenza e tracciabilità, tuttavia, ora sorgono alcune importanti domande. Quando e come e dove sarà visibile l'opera? A ricordi logica, il nome del collezionista, seppure sotto pseudonimo, dovrebbe apparire in chiaro su Marketplace, OpenSea, ed ha ancora il valore dell'opera. quale sarà quello della battuta d'asta? Lo stesso valore sarà convertito in Ethereum e l'opera sarà fruibile a tutti come avviene per le altre e così tracciata nell'eventuale vendita futura? A quanto e quando sarà rivenduta quest'opera? Siamo davanti ad una vera rivoluzione al collezionismo, oppure si tratta di una mera bolla speculativa? La criptoarte è entrata davvero nel canonico ed istituzionale mondo dell'arte? Ora, gli artisti più tradizionali saranno convinti ad affacciarsi al mondo della criptoarte? Ogni risposta a queste domande porterà un significativo cambiamento dei due mondi, quello cripto e quello dell'arte. Ora non ci resta che attendere l'evolversi della situazione. Grazie a tutti.